e questo è gol 92 un gioco carino decisamente adesso noi andremo a prendere l'argentina di un cotonatissimo maradona e andiamo contro la spagna gol 92 fallo bene questo cross guardate la bellezza dei cartelloni tarotti cos'è no ho sbagliato tasto la bellezza dei cartelloni della taroccata mamma mia manovra avvolgente devi uscire lì rinviala così bene comodo no peccato peccato segalo bravissimo dai 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 manovra madonna che palle quando ci sono queste situazioni di gioco complicate brande il nostro portierone giocala così avvolgente guadagna il fondo madonna che sfiga bravo alleggerisci vai così vai così ma ci deve essere qualcuno però si di merda nostra si soffre cresce la spagna via via grande manovra spagnola e noi vogliamo 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 così solare dall entusiasmo forse era proprio maradona cerchi il pallonetto peccato finisce così finisce così la nostra avventura un pareggio